Buongiorno guerrieri, come state? Uno scrittore è uno che vende e quando devi vendere devi essere il meno divisivo possibile, perché se hai diviso il tuo pubblico vendi meno. Per esempio, se dichiari di essere della squadra X, tutti quelli che sono della squadra Y e Z non contraranno più i tuoi libri. Quindi è una buona regola se devi vendere qualcosa di tenerti le tue opinioni per te. Ma, come avete capito, ci sono cose molto più importanti del vendere. E quindi oggi vi dirò le mie opinioni in politica. Sono opinioni di cui non sono assolutamente certa. Ho cambiato idea in continuazione. Una cosa è essere una banderuola, sto con quello che vince e rinnego quello che ho detto ieri. Una cosa è cambiare idea. Quando sei in una scelta difficile, anche come medico, gli do la morsicillina o l'azitomicina. Lo operiamo o è meglio lasciar perdere? Devo fare questo o non devo farlo? No, forse no, ma allora. Quindi vi dirò per chi voterò. Tutti quelli che hanno idee diverse ne resteranno seccati. Va bene. Per prima cosa voglio dirvi che voterò. Perché il diritto a votare è costato lacrime e sangue non sono stati effetti speciali. Perché abbiamo una classe politica già delegittimata che non sarebbe minimamente impressionata dal fatto di essere votata da solo il 5% della popolazione. Anzi, nel PD, che secondo me è in questo momento il partito peggiore che l'Italia abbia mai avuto, sapete, scusate, io sono nata in un'Italia negli anni 50 e 60 che aveva un rapporto PIL-debito pubblico spettacolare, PIL-alto debito pubblico piccolo, che aveva una disoccupazione bassissima. Poi 41 anni fa, con la dissociazione tra Tesorio e Banca Italia, sono cominciati i guai, la nostra moneta ha cominciato a perdere sovranità, Moro che non ne voleva sapere, non ha fatto una bella fine, ma guarda un po', poi c'è stato l'Euro. Poi c'è stata una serie di cose e torniamo al PD. In qualsiasi cosa devo evitare che ci sia di nuovo al governo Speranza il peggior ministro della salute che possa esistere, l'Alamo Giese, il peggior ministro degli interni che possa esistere e Di Maio, il peggior ministro degli esteri che possa esistere, ma anche tutti gli altri si sono coperti di disonore. Draghi è un tizio che vi vendono come un grande statista che vi ha spiegato che le sanzioni alla Russia che distruggeranno definitivamente la nostra industria, in particolare la piccola e media industria, si servono risolte con due gradi in meno del condizionatore o del termosifone? Questo individuo o è molto sciocco, allora mi chiedo come abbia potuto fare la sua carriera, o semplicemente vi stava prendendo in giro. Ha eseguito l'ordine di distruggere l'Italia, si è vero il PD e il Partito dei Ricchi e poi è andato in America a ricevere il premio che non è solo quella cafonata e indecente a forma di colna satanica che gli hanno messo tra le mani. Il premio sarà poi il segretario generale della Nato. E torniamo a noi, bisogna fermare il PD, quindi si va a votare. Dato il PD ha uno zoccolo duro dovuto al clientelismo. C'è uno zoccolo duro che vota per il PD in tutti i casi, quindi se tutti gli altri non votano il PD stravince. Cosa che è successo a Torino, c'è stata un'astensione enorme e quindi ha vinto la sinistra, ci credo, col candidato che la destra ha tirato fuori la destra, ha fatto veramente il possibile per spingere l'astensione, i miei complimenti. Comunque così è. Andate a votare perché è costato l'artime sangue e quando c'è molta estensione il Corriere ha già pubblicato articoli dove scrive, la gente non vuole votare, non spieghiamo soldi, abbiamo già il governo dei migliori eh ragazzi, Draghi, Speranza, Lamorgese. Bene, per chi voto? Avevo pensato di dare il voto a Toscano perché mi piace molto, mi è piaciuto molto come tutta la battaglia che ha fatto per la sua televisione. Ma Toscano ha nel suo partito persone con cui io non posso condividere nulla, Rizzo, ma soprattutto Ingroia. Ingroia è anche il simbolo di una immigrazione incontrollata e suicida e soprattutto della politizzazione dei magistrati che considero una sciagura. Poi Piccino, c'è Vattimo che mi dice che la verità neanche esiste, quindi mi spiace. Paragone e Sara Cugnal che sono Italexit e Vita, Vita tra l'altro ci sono due grandissimi amici miei che sono Montanari e Gatti, grandissime persone. Questi sono stati coi 5 stelle, non si sono resi conto di chi era Grillo, non si sono resi conto che dietro a Grillo c'è la casaleggia associati, la casaleggia associati è stata fondata da Enrico Sassun, vale a dire, coi Rothschild e allora avete un livello di ingenuità eccessivi. In più, attenzione, Italexit, il sito, appartiene alle ONG che portano i clandestini in Italia. Gli altri partiti piccoli, per esempio Mario Di Norfi, Mario Di Norfi, grandissimo amico, grandissimo combattente, grandissima persona. Ragazzi, dobbiamo fermare il PD, voi potete fare il 2-3%, io ve lo auguro con tutto il cuore, deve andare in Parlamento. In più, io non ho ben capito quali sono le vostre linee economiche, quindi non si addistrugge il sistema dal di fuori, il sistema è molto forte, può essere distrutto solo dal di dentro. Il partito comunista sovietico è morto perché Gorbaciov a un certo punto l'ha tirato giù, dall'esterno non è che nei gulag i dissidenti hanno fatto rivoluzione, quindi il sistema è terribile, può essere attaccato solo dall'interno. Chiunque voglia far parte del sistema deve far parte o fingere di far parte del sistema. Voterò per Fratelli d'Italia, la prima volta in vita mia che li voto, non avrei mai pensato che li avrei votati, ma ho letto il loro programma e mi piace moltissimo su molti punti. Sulla gestione della pandemia, sono gli unici che non hanno firmato il Green Pass italiano, hanno firmato il Green Pass europeo, un'altra cosa. Sono gli unici che stanno dicendo che bisogna fare una commissione d'inchiesta. La Lega, che ha firmato il Green Pass italiano, sta dicendo che se potesse tornare indietro non lo farebbe. Questa è già una bella cosa, è sempre meglio del PD che ti mette speranza che lo farà ancora. Riusciamo a capirlo, uno che ha sbagliato, però adesso dice in futuro non sbaglio più, è meglio di uno che ha sbagliato e se io deve aver sbagliato, continuo di aver sbagliato. Secondo, Didier Zelzan, che deve essere firmato, perché la distruzione di qualsiasi forma di libertà, io qui avrei dovuto tenere una conferenza sull'aborto, non posso tenerla in quanto omofoba, quindi abbiamo dovuto rinunciare alla sala della regione, spostarci di sala. La denuncia starà con me l'assessore Marrone di Fratelli d'Italia. La denuncia è stata fatta da un assessore della Lega, ma non importa, il senatore Pilon ha fatto un gran lavoro. Aborto. Nel Fratelli d'Italia ci sono le mie due grandissime amiche, Federica Picchi e Maria Rachele Rui, che stanno combattendo eroricamente. L'aborto ci sta massacrando. I 6 milioni di cittadini che ci mancano, signori, sono quello che dà la nostra denatalità con cui moriremo. Perché si abortisce? Perché il feto è stato concepito con incesto, sì, nello 0,001% di casi. Il feto è stato concepito in seguito a stupro, nello 0,1% di casi. Il feto è stato a terrificanti malformazioni, ormai ti abortiscono con il labbro del pulino, questa è genetica, comunque, vabbè, 0,6% di casi, a volte 1% dei casi. Nel 20% dei casi si abortisce per motivi economici. Scusate, ma allora uno Stato che dice, sì, sì, abortisci, invece che uno Stato che dice, scusi, lei di cosa avrebbe bisogno? Un composto fisso per il suo marito? Ok. Le persone mi scrivono, lei parla contro l'aborto, ma lei non conosce la mia situazione. Io ho un lavoro interinale, mio compagno disoccupato. Allora fammi capire, la società ti ha messo in condizioni di non poter mettere al mondo il tuo bambino e tu fai smembrare il tuo bambino? Devi distruggere la società, vai in strada con un forcone, pretendi che il tuo bambino possa nascere. Nel 79% dei casi, quindi, l'aborto si fa così. Perché? Perché a secondo mese di gravidanza, per motivi ormonali, questa è la vera casa dell'aborto, non avrà merito nessuno, ve lo dico io. Le donne sono scazzate e depresse. Gli ormoni hanno purtroppo un loro dannato peso. L'estrogeno e il progesterone al secondo mese di gravidanza fa sì che sei scazzata, non te ne frega niente, mi arriva sto qua, devo modificare tutto, non ne ho voglia. Se in quel momento uno Stato idiota ti dice, non ne voglia, non ne voglia, certo, certo, tutto gratis, tutto gratis, fallo, fallo, fallo. E poi l'influencer, Lucarelli, Selvaggina, io abortito tre volte, brava, un genio. Marina Bramovic, io abortito tre volte, brava, complimenti, il fatto quotidiano che scrive, sì, finalmente una donna libera, una donna libera. Una donna libera fa smembrare il suo bambino, quello è il nostro bambino. Una donna, noi siamo donne, domine, regine. Chi tocca il nostro bambino lo sbraniamo, è il mondo che deve girare attorno alla nostra pancia. Sarebbe sufficiente far ascoltare alla mamma il battito del cuoricino che questo 70%, 80% non abortisce più. E sono le donne che poi mi dicono a dottoressa, io continuo a pensare a quel bambino, adesso avrebbe 5 anni, adesso avrebbe 8 anni. Dottoressa, sto morendo di cancro. È il figlio che non ha messo al mondo né qui a tenermi la mano. Perché non diciamo alle donne, nei posti dove si abortisce, mettendo i cartelloni. Signora, se lei non può tirarlo su, lo capiamo, per ogni bimbo che la cui mamma non può tenerlo su, ci sono sette coppie in lista d'attesa per adottarlo. Quindi Fratelli d'Italia ha fatto benino sulla pandemia, poteva fare di più, poteva anche fare di meno, la gente era sotto ipnosi. Si ti metteva a dire, guardate che non ha votato il Green Pass, non solo, ma all'interno di Fratelli d'Italia ci sono stati personaggi, per esempio l'onorevole Bellato, che hanno dato della narrazione pandemica una versione perfetta, con dei video spettacolari. Ucraina, ahimè, le sanzioni sono un suicidio e Fratelli d'Italia è a favore o dichiara di essere a favore. Ma all'interno del suo partito c'è una fronda. Male che vada gli alleati della Lega, osano dire ad alta voce che sono contrari. Quindi la situazione geopolitica è spaventosa. Se qualcuno affermasse usciamo dall'euro, ita l'exit, usciamo dall'euro, ma secondo voi fanno andare al potere uno che dice usciamo dall'euro? Quindi il potere si attacca solo dall'interno, dobbiamo scegliere un partito che è all'interno del potere. Dobbiamo scegliere il partito meno peggio, non votiamo per il meglio ma per quello che senza alcun dubbio è meno peggio. Quindi io mi schiedo con le mie amiche Federica Picchi e Maria Rachele Ruiu e dare il voto Fratelli d'Italia. Molti di voi non saranno d'accordo, lo capisco perfettamente. Se volete dirmelo nei commenti grazie. Se potete evitare insulti sarebbe carino poi fate voi. E per il resto non vogliamo. Plimplon informazione pubblicitaria, leggetemi i due saggi. La realtà dell'orco che vi dicono qual è il pericolo. Signori, qual è il pericolo? La nostra immigrazione, che Fratelli d'Italia vuole bloccare come la Lega, è formata al 90%, in realtà al 93% da maschi islamici in età militare. Non è un'immigrazione. L'immigrazione è formata da uomini, donne e bambini. Non è un fenomeno migratorio, è altro. Stiamo importando un esercito. Nel momento in cui, grazie alla guerra in Ucraina, noi avremo tre giorni filati di blackout, lì si scatenerà al giad. Avete dei soldi da parte? Mettetele infediate le finestre. Se non vi servono, non vi servono. Ma una volta che le avrete. Avrete sprecato un po' di soldi. Quindi, il secondo libro che dovete comprare è questo qui, non facciamoci imbavagliare. Così capirete qual è la causa della risa scoppiata a Torino. Potete chiederle a Silvana De Maristaff, chioccioagmail.com. E per il resto, andate a votare. Se volete votare altro, votate altro ovviamente, ma andate a votare. Non vogliono che voi votiate. Ma come lo stanno dicendo, andate a votare, hanno messo le votazioni un giorno solo, non è mai successo. La prima volta che succede all'inizio della Repubblica. Le votazioni politiche un giorno solo, con pochissimo preavviso, a settembre, settembre è un mese ancora di vacanza, ancora un mese di ferie, non tutti sono tornati da vacanze. Non vogliono che votiate. Fate dispetto, votate. Votate allo 70%, all'80%, al 90%. Fate sapere che la democrazia è viva. Fate sapere che il sangue che è stato versato perché noi possiamo andare a votare. Non è stato buttato. Guerrieri, buona giornata.